su con te ci sarà Morgan che è arrivato adesso facciamo il tempo a fargli dire ci sentiamo tra pochi minuti però nel programma di Alessandro la legge quando ci impone di staccare tra 53 e 30 buongiorno abbiamo 60 secondi facciamo il tempo a fare 60 secondi come stai? molto bene, anzi come d'autunno sugli alberi le foglie che situazione importante è una situazione proprio di stagione è certo c'è anche il mandolino appuntamento fra due minuti nel programma di Alessandro con il mandolino la solenina stai in fronte a te esattamente il mandolino è il futuro ragazzi anche il passato anche il passato l'ukulele non ci appartiene il mandolino si il mandolino è di Napoli hai sempre una risposta pronta bene Alec noi ci risentiamo domani buona mattina alla solita ora senza moto però ragazzi arrivederci ciao è stata l'intervista più bella della mia vita nello show dei record anche tu ciao 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 Grazie a tutti.